Marciapiedi pericolosi. Siamo ad Angri in via Stabia all'incrocio con via Leonardo da Vinci e via Papa Giovanni XXIII. Lungo i marciapiedi ci sono delle buche che sono tra l'altro colme di rifiuti ma che rappresentano una vera insidia per i pedoni. L'altro giorno un episodio spiacevole. Una ragazzina di 12 anni è caduta e ha riportato una ferita al ginocchio. Ben 10 punti di sutura. I suoi familiari hanno voluto lanciare un appello all'amministrazione comunale affinché prenda provvedimenti colmando quei vuoti che ci sono lungo il marciapiedi anche per chiedere maggiore sicurezza in questa zona sul fronte della viabilità. Francesco D'Antonio qualche giorno fa qui in via Stabia ad Angri, con 3 e anche solo 10 anni, ha avuto un grigio incidente. Cosa è successo? Mentre stava camminando è inciampato in questo buco e ha avuto 10 punti di sutura sul ginocchio. Quando è accaduto? È accaduto martedì pomeriggio. Ora come sta percorso? È stato a casa malato e non può non camminare. Tu hai voluto segnalare questo disturbo perché queste buche che rappresentano è più giunta lungo questo marciapiede e sono pericolose. Perché non si può camminare così per la strada perché già con le macchine in mezzo alle strade è pericoloso. Prima c'è il pedicolo è pericoloso, non si può camminare nemmeno più. Quindi un appello a prendere provvedimenti? Sì per forza perché non si può stare più in mezzo alle strade.